L'assessore Paolo Castronovi, assessore alle società partecipate del Comune di Taranto, siamo presso la sede di Chima Ambiente e quindi queste iniziative che si presentano oggi, Riciclario, che certamente è una battaglia di civiltà, di senso civico, illustriamola. Sì, sono due funzioni dell'applicazione Riciclario che consentono ai cittadini di rimettere a disposizione ciò di cui si vogliono disfare per renderlo disponibile ad altri cittadini che invece hanno bisogno di questo bene, di questo ingombrante. La seconda funzione è quella della possibilità di prenotare il ritiro degli ingombranti direttamente dall'app Riciclario. Come amministrazione Melucci all'avvio della raccolta differenziata abbiamo sempre indicato la collaborazione con i cittadini come una funzione assolutamente indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo finale e con questa applicazione proviamo ulteriormente a dare un contributo perché i cittadini si avvicinano a questo cambio culturale che è la raccolta differenziata utilizzando questi sistemi. Ormai il telefonino ce l'abbiamo in mano per tutta la giornata quindi con questa ulteriore applicazione possiamo agevolare anche il servizio di ritiro degli ingombranti e di raccolta differenziata perché ricordiamo che l'app Riciclario ha la possibilità anche scansionando il codice a bar del prodotto di indicare la corretta differenziazione dei materiali che sono presenti. Per cui un modo per essere vicini ai cittadini e di avere da loro il feedback positivo nella raccolta differenziata.